Ho parlato in precedenza della prevalenza di fantasia ed estro sportivo nel gioco del calcio che si può trovare in modo speciale in paesi con una lunga e continua tradizione cattolica. Siamo ben consapevoli che quella tradizione è oggi minacciata in modo consistente, eppure qualcosa nei geni culturali del popolo deve certamente rimanere. Al contrario di quello che molti pensano, sembra che una gioia di vivere sia più presente nei paesi del cupo cattolicesimo che in quelli che sperimentano forme di cristianesimo che non fanno altro che scindersi da se stesse. Ora, un altro punto è quello della cucina. Quali sono le tradizioni culinarie che spopolano dovunque? Sempre quelle di paesi con lunga tradizione cattolica. italiana, francese, spagnola e via dicendo. Ovviamente, accanto a queste, sappiamo bene che abbiamo anche importantissime tradizioni culinarie di paesi al di fuori dell'orbita tradizionale diretta del cristianesimo, come quelle cinesi, indiane o giapponesi, per esempio. Ma se rimaniamo nell'ambito dei paesi cristiani, potrete constatare che in qualunque parte del mondo andate c'è una sopravvondanza di ristoranti italiani. Ma pensateci, vi è mai capitato di dire «cara, per festeggiare il nostro anniversario ho prenotato al ristorante tedesco» oppure «non vedo l'ora di prenotare a quel ristorante inglese». Ovviamente, questi paesi hanno meriti in altre cose, ma io credo che il cattolicesimo, malgrado o forse grazie ai suoi digiuni e al suo regime alimentare, ci ha insegnato a goderci la vita, in modo sano, anche su questa terra. È vero che imperversano locali in cui viene servito cibo di provenienza americana, il cosiddetto fast food, Ma, come tutti sappiamo, questo tipo di cibo è ampiamente associato a seri disturbi della salute, i cui effetti possono essere constatati nella epidemia di obesità che si osserva in molta popolazione americana. Insomma, li mangiate a vostro rischio e pericolo. Si sente sempre dire, anche in modo critico, che ai popoli latini piace godersi la vita. Questo perché il cattolicesimo tradizionalmente non ha insegnato a disprezzare le cose belle e buone, ma a vederne la sfolgorante bellezza, e ha cercato di insegnare l'uso della prudenza e della moderazione.